capitolo primo avrei preferito che mio padre o mia madre o meglio ancora entrambi già che entrambi vi erano ugualmente tenuti avessero badato a quello che stavano facendo mentre mi concepivano che avessero considerato a dovere quanto dipendeva da ciò che stavano compiendo in quel momento che non solo stavano per dar la vita a un essere pensante ma probabilmente la sana costituzione il temperamento del suo organismo forse il suo genio e la struttura interna della sua mente per quanto ne sapevano il contrario anche le fortune di tutta la sua casa avrebbero potuto subire l'influsso degli umori e delle disposizioni prevalenti in quel momento là se essi avessero soppesato debitamente valutato tutto ciò e agito di conseguenza sono fermamente persuaso che io avrei fatto al mondo una ben diversa figura da quella che il lettore potrà vedere credetemi brava gente non è cosa di così poca importanza come molti di voi potrebbero pensare avete tutti suppongo sentito parlare degli spiriti animali di come essi vengano trasmessi di padre in figlio eccetera eccetera tanto altro sul tema bene potete credermi nove parti su dieci dell'intelligenza o della stupidità di un uomo i suoi successi o insuccessi in questo mondo dipendono dai movimenti e dall'energia di questi spiriti dai disegni e dall'ordine in cui li ponete perché una volta messi in moto che sia il verso giusto o no e non è a far da poco voilà si si affannano come pazzi scatenati e ripercorrendo sempre sui loro passi in poco tempo li rendono una strada piana e liscia come un viale di giardino e una volta vezzi alla quale nemmeno il diavolo potrà più staccarceli benvenute e benvenuti io sono andrea del circolo dei narratori di bergamo e il sabato condivido letture di testi letterari questo che è iniziato due minuti fa è il tristram scendi o meglio il titolo ufficiale è la vita e le opinioni di tristram scendi gentiluomo di un autore del diciottesimo secolo che si chiama lawrence stern scusate avevo interrotto dunque mentre i suoi genitori lo stavano concependo lui avrebbe desiderato che si stessero attenti e invece scusa caro disse mia madre non hai dimenticato di caricare l'orologio esclamò mio padre cacciando un urlo ma cercando nello stesso tempo di controllare il tono della voce ha mai donata la creazione del mondo in cui ha interrotto un uomo con una domanda così sciocca scusate che stava dicendo vostro padre niente capitolo secondo allora certamente non c'era nulla nella domanda né di bene né di male allora signore lasciate che vi dica che fu perlomeno una domanda inopportuna perché disseminò e disperse gli spiriti animali ai quali toccava il compito di scortare e guidare per mano l'omunculus e condurlo sano e salvo al posto destinato a riceverlo l'omunculus signore per quanto volgare e ridicolo possa apparire in questa nostra distratta età agli occhi della follia e del pregiudizio agli occhi della ragione illuminata dalla scienza si presenta come un essere tutelato dal diritto i filosofi più sottili che sia detto incidentalmente sono quelli con le menti più aperte l'anima dei filosofi è inversamente proporzionale alla grossezza delle loro speculazioni ci dimostrano incontestabilmente che l'omunculus è creato dalla stessa mano generato secondo le stesse leggi di natura dotato dalle stesse forze motorie e facoltà di noi altri che come noi è fatto di pelle capelli grasso muscoli vene arterie tendini cartilagini ossa midollo cervello ghiandole genitali umori giunture che è un essere dotato di altrettanta energia insomma così tanto così autenticamente simile a noi quanto il lord cancelliere dell'inghilterra gli si può fare del bene oppure del male gli si può porgere aiuto e in poche parole ha titolo per tutte quelle rivendicazioni quei diritti dell'umanità che tulli o puffendorf e i migliori moralisti riconoscono ai propri simili ora signore e se durante il suo viaggio solitario gli fosse accaduto qualcosa o se già solo per la paura naturale in un viaggiatore così giovane il mio piccolo gentiluomo fosse giunto a destinazione miserevolmente esausto la sua forza muscolare e virilità ridotte a un filo i suoi stessi spiriti animali sconvolti oltre ogni dire e se in questo triste stato di nervi sconvolti fosse rimasto preda di spaventi improvvisi o di una macabra serie di sogni o di visioni per nove lunghi 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 mesi io tremo al pensiero delle mille debilitazioni di corpo e di spirito che avrebbero messo radice che nessuna competenza di medico di filosofo avrebbe saputo più guarire completamente capitolo terzo devo la conoscenza dell'aneddoto appena ricordato a mio zio signor toby shandy al quale mio padre che era un eccellente filosofo naturale e molto dedito al ragionamento rigoroso sulle materie più sottili ha confidato la disgrazia spesso e in modo grave ma una volta come mio zio ricordava bene in maniera più particolareggiata mentre osservava l'inaccettabile diagonale così la definiva del mio modo di lanciare la trottola e i principi che io aducevo per giustificarmi il povero gentiluomo scosse la testa e con un tono che esprimeva più pena che rimprovero disse che fin dal principio il suo cuore presagiva e lo vedeva confermato da questa e altre mille osservazioni che aveva fatto su di me che io non avrei mai ragionato o agito come i figli degli altri ma ahimè continuò scuotendo il capo una seconda volta e asciugando una lacrima che gli escreva lungo una guancia le sventure del mio tristram sono cominciate nove mesi prima che venisse al mondo mia madre che sedeva lì accanto alzò lo sguardo ma di quello che mio padre intendeva ne capiva quanto il proprio di dietro ma mio zio signor toby shandy che era stato spesso informato dell'affare lo capì molto bene prima di avviarci verso la conclusione come vedete una lettura piuttosto breve questa settimana permettetemi una piccola dedica chi segue queste nostre letture ricorderà che il 25 aprile scorso ho dedicato il mio video a eddie marcucci combattente italiana contro l'isis in stato di sorveglianza speciale considerata dallo stato italiano una persona pericolosa al solito sorveglianza speciale non vuol dire reato non è che abbia commesso qualcosa è solo considerata potenzialmente pericolosa ora il 12 di novembre cioè oggi per me è attesa la pronuncia del tribunale sulla conferma del suo stato di sorveglianza o meglio è attesa l'udienza probabilmente la pronuncia arriverà qualche giorno dopo quando voi vedrete questo video magari la notizia sarà già uscita magari l'avete già sentita o magari non ne sapete niente io spero che sia andata bene solo che mentre a torino c'è un presidio di solidarietà per lei io a torino non ci posso andare e quindi ancora una volta le dedico questo lavoro ma che c'entra un Woody Allen del diciottesimo secolo con una partigiana del ventunesimo di preciso non lo so me lo ha fatto venire in mente questa storia dell'homunculus del embrione si direbbe oggi ma embrione prima ancora della fecondazione quando ancora il seme sulla strada del posto dove deve essere accolto e che sembra dover avere già dei diritti tra le altre cose ed è una militante politica si è occupata anche di campagne sulla contraccezione sul diritto all'interruzione di gravidanza tra l'altro ricordiamo anche il movimento delle donne in polonia che proprio in questi giorni è immobilitazione su questo tema un po' come protagonista cui apro mille parentesi procedo per digressioni di palo in frasca dicevo il tema del interruzione di gravidanza la storia dei diritti dell'embrione tirata sempre fuori in contrapposizione a quelli della madre prima o poi mi dicevo qualcuno comincerà a tirar fuori i diritti dello spermatozoo bene ho scoperto che nel diciottesimo secolo lo facevano perché l'homunculus naturalmente gli spiriti animali sono speculazioni filosofiche ma che gli spermatozoi esistessero si sapeva già comunque roba da dilettanti i diritti dello spermatozoo oggi oggi insomma l'anno scorso ricordo un'amica una ragazza che ho conosciuto che raccontava di essere stata accusata di essere egoista perché non voleva figli egoista nei confronti di chi si chiedeva questi eventuali bambini non mai nati non è che sono mai nati perché li ha abortiti non esistono non sono mai stati concepiti egoista viene da rispondere nei confronti della società perché una donna che pretende di autodeterminarsi è sempre come se stesse rubando qualcosa a qualcuno ed è anche per questo che una giovane donna che ha preso in mano il fucile ed è andata in guerra viene considerata pericolosa perché appunto la mia mamma è tanto carina però ne capisce quanto al suo di dietro e tutti stimiamo gerda taro basta che se ne sta negli anni 30 e non pretende di vivere oggi torniamo al diciottesimo secolo va capitolo quarto so che ci sono al mondo dei lettori così come molte altre brave persone che non sono lettori per niente che non sono soddisfatti se non sono introdotti da cima a fondo a ogni segreto su tutto quello che ti riguarda nella mia condiscendenza questo loro capriccio per una ripugnanza a deludere qualsiasi creatura vivente che sono stato così particolareggiato poiché la mia vita e le mie opinioni faranno probabilmente un certo rumore nel mondo e se vedo giusto avranno diffusione tra gente di ogni classe mestiere e genere essendo letto almeno quanto il pilgrim's progress e finiranno per diventare quel genere di roba nella quale montaigne temeva di vedere trasformati i propri saggi cioè un libro da salotto trovo necessario considerare ogni singolo avvenimento vi chiedo quindi scusa se batto ancora questa stessa strada per questa ragione sono ben lieto di aver cominciato la storia della mia vita proprio come ho fatto di poterla raccontare come dice Orazio a bovo Orazio sì lo so non raccomando affatto questa forma ma questo signore parla soltanto di un poema epico di una tragedia non so più quale e comunque se non è così chiediamo scusa al signore Orazio se nello scrivere quello che ho delineato non mi limiteranno le sue regole né quelle di nessun altro uomo mai vissuto ad ogni modo chi preferisse non andare troppo fondo in questo genere di cose non mi resta che consigliare di saltare a pie pari il rimanente di questo capitolo che come ho detto in anticipo è scritto soltanto per gli spiriti curiosi e indagatori chiudete la porta fui concepito nella notte tra la prima domenica e il primo lunedì di marzo dell'anno di grazia 1718 lo dico con certezza ma come ho potuto essere così dettagliato nell'acquisire notizie di un fatto avvenuto prima che io nascessi si deve a un altro piccolo episodio noto soltanto nella mia famiglia ma che ora rendo pubblico proprio allo scopo di chiarire meglio questo punto mio padre dovete sapere che una volta commerciava con la turchia ma da quando da qualche anno aveva lasciato gli affari per ritirarsi a vivere poi morire nella propria patria nella contea di era io credo uno degli uomini più meticolosi che siano mai esistiti in qualsiasi cosa facesse sia negli affari che nei divertimenti come piccolo esempio della sua estrema scrupolosità della quale alle volte era schiavo in verità ne aveva fatta una regola per molti anni della sua vita la notte della prima domenica di ogni mese sicuro come sicuro che quella domenica notte sarebbe arrivata ricaricava con le proprie mani una grande pendola che possedeva che stava su una scala di servizio ed essendo egli al tempo di cui parlo tra i 50 e i 60 anni aveva gradualmente preso l'abitudine di dedicare a una certa occupazione familiare la stessa note al fine di come soleva spesso dire allo zio toby togliersi il pensiero in una volta non avere più preoccupazioni per tutto il resto del mese ciò provocò un inconveniente che in gran parte ricadde su di me e gli effetti del quale temo di dover portare fino alla tomba e cioè per una infelice associazione di idee che non hanno connessione in natura a lungo andare la mia povera madre non poteva mai sentire caricare il predetto orologio senza che le si affacciasse il pensiero di qualcosa d'altro e viceversa queste strampalate associazioni di idee il perspicace lock che certamente comprese meglio della maggior parte degli uomini la natura di queste robe afferma che hanno prodotto più effetti paradossali di qualsiasi altra fonte di pregiudizi ma questo lo diciamo di passaggio adesso risulta da una nota del tacuino di mio padre che ho qui sul tavolo che il giorno dell'annunciazione cioè 25 dello stesso mese in cui si data la mia genitura mio padre partì per un suo viaggio a londra con mio fratello maggiore bobby per iscriverlo alla scuola di westminster e sempre stando alla stessa fonte non ritornò dalla moglie e dalla famiglia fino alla seconda settimana del maggio seguente questo rende la cosa praticamente certa comunque quanto a seguirà al principio del prossimo capitolo mette la vicenda al di là di ogni ragionevole dubbio ma scusate signore che cosa ha fatto vostro padre per tutto dicembre gennaio e febbraio vede signora per tutto quel tempo era afflitto dalla sciatica e bene io mi mi starei fermando qui cioè la mia idea non era fare un orazione politica era raccontare questa storia divertente della pendola che deve citare diecimila filosofi filosofi morali puffendorf credevo che fosse un nome inventato invece è esistito davvero un giurista puffendorf tullio naturalmente cicerone e poi appunto john locke comunque volevo fermarmi qui però c'era questo rimando al capitolo successivo la sicurezza si avrà al capitolo successivo e quindi via ci mettiamo anche anche qualche riga del capitolo successivo capitolo quinto il quinto giorno di novembre del 1718 che rispetto all'epoca stabilita era tanto vicino ai nove mesi di calendario quanto qualsiasi marito avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi io tristram scendi gentiluomo fui generato in questo nostro scorbutico disastroso mondo mi sarebbe piaciuto essere nato sulla luna o in qualsiasi altro pianeta tranne giove e saturno in quanto non ho mai potuto sopportare i climi freddi perché non avrebbe potuto andarmi molto peggio in uno qualunque di essi anche se non mi pronuncerò su venere di quanto mi sia andata in questo nostro vile sporco pianeta che in coscienza credo sia detto col dovuto rispetto sia stato fatto con gli avanzi e coi ritagli degli altri questo era lawrence stern la vita e le opinioni di tristram scendi gentiluomo capitoli da uno a quattro e un pezzettino del cinque traduzione mia lettura breve ma per tutta la primavera siamo andati avanti con letture di ventuno ventidue minuti quindi siamo esattamente in linea con quello che facevamo qualche mese fa se avete voglia di commentare mi fa piacere se avete voglia di sentirci mi fa piacere ci sentiamo sabato prossimo se tornate mi fa piacere anche questo